Atti vandalici alla segnaletica stradale di via Satriano. Un vero e proprio ride vandalico, segnali stradali imbrattati con vernice spray nera e altri danneggiati. I segnali presi di mira sono quelli posti all'imbocco del nuovo e chiacchierato senso unico di marcia di via Satriano e oggetto di una vera e propria disputa territoriale tra i comuni di Angri e Sant'Antonio Abate. Gli animi si sono accesi dopo l'ordinanza del senso unico di marcia a ridosso del ponte di via Satriano che dà sulla popolosa area residenziale e che conduce alle industrie poste lungo l'asse viario sul territorio abatese. Gli atti di vandalismo sono stati denunciati dal comando di polizia locale con deferimento alla procura della Repubblica di Nocena Inferiore. Gli stessi agenti di polizia locale agli ordini della comandante Anna Galasso, con certosina attività investigativa, stanno visionando i filmati delle telecamere nel tentativo di risalire e identificare gli autori degli atti vandalici ai danni della segnaletica.